Tanto Fairy Cancut Minchia ma Fairy Cancut ragazzi sta sborsando Veramente un sacco di uncut Un sacco di views Assurdo Secondo me Non so se è l'effetto quarantena O cosa Però sembra o l'effetto post mondiali Che insomma anche i mondiali sono degli eventi giganteschi Un sacco di gente si interessa al lol Ma Fairy Cancut sta facendo Sta sfornando un sacco di views ultimamente Ah dici Mastia per quello E Fairy Cancut stando molto Cioè constate che i video che proprio Mi vanno male Fanno un minimo 6000 views Cioè 6000 views Escono due uncut al giorno 60 video al mese ragazzi Ok Siamo contro Zyra Che è un po' pallosa però vabbè Non importa Queste sono le rune Ve le faccio vedere così Non mi rompete le scatole Anche se Oh io ve lo dico chiaramente ragazzi Soffiere Canca Cioè Ormai ho fatto così tanti test Che non sono molte le volte In cui però qualcosa di completamente nuovo Tipo prima ho fatto Draven mid Ok ma a parte quello Sì è un jungle E Gragas sap Tutti i pick ho fatto Tante volte E No ma che cazzo Ma porca puttana Sono pick che ho fatto Tante volte Quindi magari le rune Le faccio vedere in altri In altri In altri game Ho schiacciato il fiore Come si fa adesso Ah ma guardate qua Giuseppe e Simone Questo è il lato A Lato A Lato A E questo è il lato B Lato B Lato B Perché ho gioco in inglese Mi ci trovo bene Tengo il gioco in inglese Da 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 praticamente sempre Quindi Questione di abitudine Questione anche di voler Comunicare Con gli altri Visto che ovviamente La gente con cui giochi Parlerà inglese Di logica Quindi ti aiuta anche a comunicare A sapere come si chiamano Gli oggetti in inglese Le rune in inglese Tutte queste cose qua Quando devi dire al tuo compagno Di buildarsi l'archibugia Ripetizione Ha voglia Tradurlo in inglese Toc Davvero Rufy Legend Mamma mia Il Nocturne Da 6 milioni Che leggenda Ghost Ignite Aeri Per il Hello Buonasera Fieri Tutto bene Oh brava Sasha Mica come l'ha stittato Avete visto Come ha sistemato La wave Allora Allora Uh E questo è un flash E questo signori È un flash Che parte No Cazzo Quel minion Non ce l'avevo Fatto caso Ho la panza Troppo grossa Gragas Mettiti a dieta Detetti Grazie Dere sub Tutto bene Bello Grazie mille Ti dico subito Una kill Poi mi sarebbe Un attimo Per dedicartela Allora Ci hanno ancora Leal però Teniamo in mente Che ci hanno ancora Leal Grazie Saksbad Del Prime Benvenuto Nella Felix Army Saks Benvenuto Ash La stitta Bene La stitta Ok Ottime pizza Usato anche lì Al buono Ora possiamo Fare la kill Tutto come previsto Mana ce l'ho 50 60 30 Sì Non ce l'ho più Il mana All'acchi Che cazzo ridi Zaira Befana Dai Ash che mi sarebbe Il livello Livello 4 Ma questa C'ha le scarpe Mille pozze Ecco perché Si continua Refullare Ok Ultima stack Di mana flow E sono felice Pestiamo questo Pestiamo questo Esatto Ma Warwick Ma warwick Ma perché warwick C'avevo ancora il flash Non c'ha Il zaira Non c'aveva niente La killavamo Vabbè Ok push Adesso però Dobbiamo dare Back Direi che Si salva Senza problemi Non ho capito Perché questo TP inguardabile Ma ok Ok Renekton Potrebbe andare Back Cash Comunque Come sto E non male Non male Non mi lamento Allora Aspettate Amici C'è nessuno Asche non va Mai back Ragazzi Una challenge Lei finché non muore Non va back Pur senza mana Completamente inutile Perché non ci può aiutare Il drake Asche Eh lo so Lei non lo sa Ragazzi Lei dice Se la do back Perdo i minion Ok Ma ma che schicchi Li ho tirato Ok flash di nuovo Ma che cazzo Ok Ok Siete pronti Questana Ahah Asche Non può fare nulla Ma back Lei non ci va Brava Vai back Io devo fare La kill Bobby Rischioso Ma ha funzionato Avete visto Ha Ha funzionato E questo E tanti saluti Anche a mastery E tanti saluti Pure a lui Fratello Abbiamo questo E basta Eh che support Che bella La spanzata Che gli ho tirato È stata molto Particolare SmurfQ Signori Grazie Far 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 Schkiller Grazie del Prime E benvenuto Una Felix Army Benvenuto Schkiller Grazie anche Lizzy Manu Grazie anche A Nick Per i sei Per i sei mesi Bentornato Nick Salve Ok Non ho la E Oh 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 Eh Oh 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 Non ho già Ste Cazzo Di Piante Qua Venisse Un colpo A lei Le piante Guarda Allora Ash When I ping your ult You ult Ulta Ok Ulti Ash Ho sbagliato Porca troia La passiva La passiva Oddio Almeno ho ultato Ma Se gli dico Quando pingo ulti Ulti quando pingo Non dopo mezz'ora Che ho pingato Va bene Va bene va bene va bene Per Maria è così che funziona Peccato lì ho bocellato io con la Q Che l'ho tirata male sotto torre Se no Non avrei rischiato Avrei uccisa direttamente Buonanotte Allora Ash C'è qualcosa che non va nella nostra comunicazione Ma Ma non la Brambolas Tutta la Tormel 44 Ma sta maxando la Q Come fa a fare così tanti danni con la Q Ultà 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 Olè Ma ulta quando ti pingo Non dopo Vabbè Rick scrivilo Non so che fare Qua un bel Mejai sarebbe tanta tanta roba C'ho già 10 stack di Araxial Quindi sì 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 Buono Lollo Grazie mille Del secondo mese Bentornato nella Firix Army Lollo Bentornato No Eh vabbè Ormai c'era entrata Ash Stai morendo dalle piante Ma queste piante quanto durano Madonna ragazzi Promosso da DC No vabbè No vabbè Non ci credo Dove cazzo è Aaaaaah Niente Ci ha rubato Niente Ione ci ha rubato Il Drake Vabbè Tanto romonte in sti cazzi La miglior difesa La miglior difesa è l'attacco Back Mi sono perso Eh Alec Ti sei perso La strage più totale Ti sei perso Oddio Oddio Ash No Brava Ma ho già 25 stack di magiai Madonna ma faccio i buchi adesso Ma che è Porca troia sta quadra Kill Vabbè No c'è amici Paura Mamma, che danni gli ho fatto? Mamma mia, pensavo di fare in tempo Oddio No, il lupacchiotto No Vai Ash, sparagli Spara gli Ash Brava, piu, piu, piu Piu, piu, piu Mamma mia, signori Guerra di Right Click Ha vinto Ash Proprio lei Grazie mille, Presti Bentornato, grazie mille Per questi 24 mesi Due anni interi, Presti, ma siamo pazzi? Siamo pazzi qua Oddio Tutto bene, Presti, vengo subito a dedicarti 24 kill, tanto per come sta il nostro game Allora Una la togliamo Uffete La Q, non l'ho presa Nooo, il disrespect Unlucky, ragazzi Unlucky disrespect Andrà meglio dopo Eh, lì purtroppo Ho stato un po' tutto a cazzo Ma va bene così Colpa delle piante Tutta colpa delle piante Ma è sempre Va bene, va bene Disrespecteremo Peggio dopo Tranquilli E questo? Eh? Chi gli dice qualcosa a questo? Shen, vai a controllare Shen Velo proprio Mi fai un cazzo Eh sì Eh sì È andata proprio così Come immaginavo Oddio Ecco Scusa ma ti diverti Non ho capito Eh? Mamma mia Ma che cazzo Vabbè Ci prenderemo Ovviamente anche Alla zona Sboing Signori Brava Però se avessi Un oggetto completo Sarebbe anche meglio No no Il Mijai Ancora 11 stack Tranquille Pronto Vorrei che adesso Fare il Drake Sembra la build Di un bot Questa Ci guardate Vabbè 56 minion Mamma mia 11 stack Sono poche Ma quello che basta Per avere la movement speed Di passiva Quindi Vanno più che bene Se ne fidate Anzi adesso Mi faccio Questo Ulti 48 secondi Ash Nel lato Sbagliato Della mappa Eccomi 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 Che l'abbiamo fatta Flasciare Questa Ok Ti riverti? Ah Toglimela Un'altra volta La ward Oddio Ha ultato Ha ultato Ha Ultato Ha Ultato Ha Ultato Brava Ash Mamma mia Una ulti Di Ash Signori Basta E avanza E le stack Sono tornate Avete visto Adesso Riverazza Era tipo Adesso È tornata In base Adesso penso Rivi anche Tristana Facciamo tornare In base Anche loro Non è un problema Ok Puffete Tornate in base Anche lei Mamma mia Ragazzi No Gold reset Panza illegale Grazie Giotto 13 mesi Bentornato Da Felix Armi Caro Giotto Bentornato Eh sì Eh sì 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 Una zone Siamo fatta Grazie mille Giotto Le rune Eccole qua È sgravato Quest'eroe Oddio Ma uccidilo Warwick lo distruggi Basta di fare la ulti quando ti dà la W Ora banca adesso È Easy Bravo Warwick è 9-1 in tutto ciò Eh Bravissimo A casa A casa A casa A casa Il vocale giusto Il momento giusto Bronze Ma Tristana Vai Ash Ulta Ulta Brava Te la meriti No O forse no Eh Lì Volevo lasciare la Dash Ragazzi Adesso mi senti in colpa Vabbè Evidentemente Non se la meritava Mi sembra di aver fatto una buona azione Lasciandole la kill Invece no A casa Preso il gromp e lui tutti insieme A casa A casa A casa Oddio Ti prendo Ti prendo Ti prendo Ti prendo Ti prendo Uff 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 E te Va bene Liscio Rip Rip A casa Fievic 24 kill L'avevo detto che le facevo presti 24 kill Eccole qua Ma io non ho capito perché Shen Fosse rimasto Fermo tutto il tempo Ok gli stun però Anna è morta È morta È morta Noi abbiamo preso il numero dall'elenco Rip Signora Anna Pier Perbe Grazie del Brime E benvenuto Pier Grazie mille Cioè vedete Uno streamer che mantiene in sua promessa Quanti ce ne sono al giorno d'oggi così Avevo promesso Quando avevo 9 kill Che ne avrei fatte 24 Ed eccole qua Cliccate sul tasto abbonate ed abbonatevi gratis con Amazon Prime pagando 4,99 Cosa aspettate mi chiedo io Cosa aspettate Adesso ci facciamo un Rabadon 3 Mi serve un 200 gold però adesso rubiamo la giungla Ok Ok Oddo back Ora posso farmi il Rabadon Quello si fa i cazzi suoi Eh C'è proprio Ah Oh Sono Rihanna Zacchete zacchete Brava Eh Ok così Lui proprio voleva ingaggiarlo a tutti i costi Arrivo amici Oh un po' di inting puro Meno male Buonasera Come sta andando Degli ottimi danni questo inibito Io direi Andiamo a pusharla top Come va Adesso pushiamo la top Fidatevi di me è la scelta giusta E Ho sbagliato Non avevo visto che Ione c'era la queen canna My bad Però speravo che lei fosse un po' più vicino a me Vabbè Potrò flashare E non ho fatto in tempo usare la zona L'ho shottato Grazie Gabix Matt Tre mesi Bentornato nella Fierix Ma quanti sub stasera Actaroth Grazie Actaroth Grazie mille di questo sub giftato gentilissimo Grazie anche a Gantu Per i tre mesi Bentornato Gantu Bentornato Bentornato 630 di AP Adesso però prendo anche questo 700 di AP Ne avrei di più almeno 850 Con Il meggiare full stack Però qua Insomma Si fa quel che si può Piu 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 Ok questo è un ottimo Drake Perché abbiamo un sacco di Drake Anche altri 20 di AP Così Se ne prendo il blue buff è ancora più AP L'ha mai fatto qualcuno quel blue buff durante il game Porca troia ragazzi Investita con la palla Spostati Ah Quasi 900 di AP Siete pronti? Siete pronti signori? La panza dorata Dream Dream La panza dorata signori La panza dorata Ma non dovevano fixarlo Sto problema Ok Dai Asha Ha ultato Quando gliel'ho chiesto Più o meno Ma insomma Siamo lì Andrea Grazie mille In promo Ma siamo impazziati qua Vabbè Troppo Too much Dammo Too much Too much